terremoto una decina di edifici inagibili chiuso l'ambulatorio del santa croce alluvione erogati primi fondi alle imprese cantianesi incidenti a santa veneranda condizioni disperate per una quattordicenne integrazione pesaro firma la carta euro cities a san lorenzo in campo nasce un nuovo polo agri tecnologico ben ritrovati su rossini tv canale 80 questo è il nostro rossini news il telegiornale della provincia di pesaro urbino oggi è venerdì 11 novembre apriamo questa edizione occupandoci del terzo giorno di attività sismica susseguente alla spaventosa scossa di mercoledì mattina le scosse sono continuate anche oggi con intensità ridotta così come continuano i controlli sulla stabilità degli edifici in questo primo servizio il comando dei vigili del fuoco ci dà ulteriori informazioni vediamo terzo giorno di attività sismica susseguente alla maxi scossa dell'alba del 9 novembre un'attività sismica che per il terzo giorno è continuata in maniera costante ma ridotta di intensità rispetto sia mercoledì sia ad un giovedì che aveva registrato due scosse di magnitudo 4.1 fino al primo pomeriggio di questo venerdì un'altra decina di scosse sempre con epicentro al largo delle coste pesaresi anconetane ma scosse con magnitudo più ridotta compresa fra 2 e 3 oggi per il terzo giorno si è riunita la soi tavolo di confronto integrato fra prefettura forze di polizia provinciali vigili del fuoco protezione civile e comuni per fare il punto sugli interventi di controllo effettuati le inagibilità rilevate e le criticità da affrontare siamo impegnatissimi in queste attività di verifica soprattutto sui dissesti statici delle civili abitazioni ma anche alcuni edifici di pubblica utilità e abbiamo avuto un 255 interventi già operati dal nostro personale e ne abbiamo in coda quasi 200 quindi c'è una attività molto molto intensa le inagibilità che abbiamo dovuto necessariamente operare sono comunque relativamente basse cioè circa il 4 per cento degli interventi di verifica fatti quindi parliamo di 10 inagibilità alcune sulla maggior parte su civili abitazioni quindi appartamenti e poi ci sono anche delle strutture di rilievo pubblico come la chiesa di candelara piuttosto che il l'ambulatorio del padiglione di difano che stamattina abbiamo dovuto comunque fare inagibile che necessitano comunque dei degli interventi importanti ma che probabilmente avevano anche già nel nel pregresso una situazione con qualche vulnerabilità il tavolo di confronto della soi ora si aggiornerà al prossimo martedì tavolo che per il comune di pesero è rappresentato dall'assessore all'operatività enzo belloni importante che abbiamo riaperto le scuole e le palestre quindi i primi edifici che sono stati controllati i nostri tecnici non hanno registrato particolari criticità dal punto di vista della agibilità e ora si stanno facendo controlli anche più approfonditi rispetto agli altri edifici di proprietà del comune con occhio particolare agli edifici storici che sono quelli che in qualche modo dalle prime analisi che abbiamo potrebbero avere registrato danni e quando si devono mettere le mani su edifici storici importanti poi è un attimo che le risorse necessarie siano anche risorse importanti ci siamo presi altri giorni di tempo per avere una valutazione tecnica più vicina al vero rispetto a quelli che potrebbero essere i costi da sostenere i danni che che abbiamo registrato contiamo che fra martedì e mercoledì come ci siamo dati insomma come tempo qui anche nella riunione di questa mattina la SOI di avere un quadro ripeto più vicino al vero rispetto a una quantificazione di danni l'importante a questo punto è mantenere l'agibilità e continuare il percorso di monitoraggio che stiamo facendo costantemente e dal terremoto passiamo alla ripartenza dall'alluvione il comune di Cantiano comunica infatti di aver erogato alle imprese del comune i primi 191 mila euro di liquidità che fanno parte delle donazioni raccolte dal fondo emergenza alluvione fondi accreditati sui conti correnti di 35 attività cantianesi aspettando ristori regionali e statali si tratta dunque del primo segnale di vicinanza concreta al tessuto socio economico di Cantiano ed ora cambiamo argomento martedì scorso vi abbiamo mostrato le immagini del grave incidente stradale fra due auto che si sono scontrate in zona santa veneranda all'incrocio fra strada ponte valle strada tre sole ad avere la peggio è stato una quattordicene di montbaroccio che martedì è stata trasportata in elia ambulanza all'ospedale torrette di ancona dove tuttora risulta ricoverata in condizioni disperate nel reparto di rianimazione ieri la comunità di montbaroccio si è stretta in una veglia di preghiera in chiesa alla presenza dei tanti amici della ragazza il primo maggio scorso sandro salvucci è diventato arcivescovo di pesaro sei mesi dopo ascoltiamo il suo primo bilancio di questa esperienza pastorale nel nostro territorio bilancio positivo nel senso che ogni giorno avverto che si aggiunge un elemento di conoscenza ulteriore che mi permette di apprezzare sempre di più questa terra e di apprezzare quella realtà di chiesa e di fede di vita anche sociale di umanità che ho trovato in questa terra quindi diciamo che sono cresciuto dal punto di vista della della conoscenza tramite tanti incontri e nello stesso tempo mi rendo conto che il mio compito è quello di essere un po facilitatore incoraggiatore essere di sostegno alla vita e alla testimonianza di fede concreta nel quotidiano attraverso anche una carità una solidarietà che si esprime mille forme e che costituiscono la ricchezza di questa terra per cui credo che il bilancio è positivo il cammino da fare e ancora tanto siamo solo agli inizi la città di pesaro ha sottoscritto oggi la carta per l'integrazione nella città aderendo alla rete europea euro cities uno strumento di inclusione che approfondiamo in queste prossime interviste una firma importante assolutamente sì anche in questo momento storico particolarmente complesso per i temi dell'immigrazione la firma della carta euro cities che ha fatto tutti i passaggi dalla commissione consigliare al consiglio comunale ricevendo chiaramente l'approvazione del consiglio comunale rappresenta la tappa di un percorso che ci rappresenta ho spesso ho detto che l'identità della nostra città è di una città inclusiva accogliente e sottoscrivere aderire a questa rete di città europea attraverso la condivisione di valori di buone prassi rappresenta un ulteriore passo appunto verso l'inclusione e l'accoglienza di tutti per una città che sia davvero più equa e più accogliente per le persone che arrivano e per quelli di seconda generazione che già sono qui nel nostro territorio questa iniziativa prevede la firma oggi al centro idea all'interno di quella che è la nostra struttura per l'intercultura già dal 2012 sono attivi in questa struttura dei corsi dedicati alle donne straniere la scuola delle mamme pensata proprio per insegnare e accompagnare le donne in una vera inclusione all'interno della città partendo prima di tutto dalla lingua la firma di questa carta prevede anche questo incrementare quelli che sono le nostre buone prassi all'interno di un'accoglienza e di un percorso che possa essere sempre più articolato e allora la scuola delle mamme io la definisco una scuola di mondo perché tutti gli anni dal 2012 abbiamo questo gruppo di mamme che sono circa una ventina ogni anno alcune poi continuano a frequentare alcune di loro sono completamente analfabete anche in prima lingua quindi abbiamo dei livelli diversi corsi di italiano che sono diversi e insieme al corso di italiano facciamo anche conoscere alle mamme quelle che sono le regole principali che devono conoscere per stare qua in italia per cui anche la costituzione le regole gli articoli principali eccetera visitiamo la città facciamo una visita guidata la città perché è importante che il loro ruolo genitoriale resti anche con la non conoscenza della lingua perché i bambini i figli sono molto più veloci ad imparare l'italiano rispetto all'adulto arrabbio molto quando vedo affrontare il tema delle migrazioni con quella superficialità con quella demagogia e spesso e volentieri con un razzismo di fondo primo perché in questo momento l'immigrazione non è l'emergenza del paese l'emergenza del paese sono le bollette quindi diventa una grande arma di distrazione di massa secondo perché un fenomeno attualmente complesso che non si può gestire con la demagogia non si può gestire con la prepotenza che cosa è servito tenere 200 persone in una nave per poi farle scendere tutte perché stavano male mandare sui medici a dividere le famiglie i padri da una parte le madri dall'altra ma che paese siamo diventati i sindaci sono per l'integrazione le regole l'accoglienza si possono tenere insieme queste tre cose e questa carta ci aiuterà a farlo perché ci servirà anche a confrontarci con altre città che sul tema dell'integrazione sono diciamo molto avanti e magari anche molto più avanti di noi che comunque da anni grazie operatrici straordinarie stiamo facendo un bellissimo lavoro a iniziare dalla dalla scuola dal suo segno scolastico eccoci arrivati allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni l'invito è sempre quello di mandare al nostro numero di whatsapp che vedete in sovraimpressione le vostre immagini video oppure messaggi di testo in cui segnalate le cose che non vanno un telespettatore ci ha sollevato alcuni interrogativi sui lavori e sui tempi della riapertura del moletto del lungomare argomento sul quale abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale vediamo cosa ha risposto rossini tv risponde alle segnalazioni dei suoi telespettatori segnalazione che oggi si concentra sul noto moletto di pesaro che divide il lungomare fra la palla di pomodoro e l'inizio del litorale di ponente moletto che da qualche mese all'accesso interdetto in quanto sprovvisto della ringhiera di delimitazione che come stato per le altre balauste della palla di pomodoro è attualmente in fase di restyling per un trattamento in polimeri che ne dia nuovo lustro e integrità c'è però chi si chiede se la prolungata assenza della ringhiera stia minando l'integrità delle assi di legno del camminamento che appaiono sconnesse e destabilizzate dalla mancanza di avvitamento con le ringhiere l'amministrazione comunale sollecitata sull'argomento ha fatto sapere che si tratta di una situazione calcolata che si è scelto di effettuare il trattamento in periodo autunnale per non togliere la passeggiata sul moletto nel periodo estivo e che nelle prossime settimane si ristabilirà la recensione con conseguente fissaggio e sistemazione della pavimentazione a regola d'arte Le telecamere di Rossini TV si sono accese questa mattina a San Lorenzo in campo per presentare un innovativo progetto che vedrà gli spazi deindustrializzati ed abbandonati dell'ex aquatar riqualificarsi in un progetto innovativo di economia circolare. In questi spazi l'azienda di ingegneria Enereco realizzerà infatti un nuovo polo scientifico agro tecnologico denominato Ergeva che punta a realizzare nella valle del Cesano un hub di eccellenza tecnologica all'insegna della sostenibilità. Il progetto è stato svelato questa mattina alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi, dell'onorevole Mirco Carloni, del sindaco di San Lorenzo in campo Davide Dell'Onti, dei vertici di Enereco e dell'Università Politecnica delle Marche. Un progetto che vi invitiamo ad approfondire nello speciale che Rossini TV trasmetterà mercoledì 16 novembre alle 20 e 20. Siamo nei giorni dedicati alla prevenzione del diabete. Lunedì infatti ricorre la giornata mondiale dedicata a questa patologia con possibilità di controlli gratuiti della glicemia nelle farmacie comunali. Nel weekend invece ci saranno banchetti informativi in piazza del Popolo a Pesaro. Mentre ieri a Villa Borromeo si è affrontato il tema della preoccupante crescita del diabete in età infantile. I bambini possono avere l'esordio della malattia del diabete in maniera improvvisa. Ci può essere la poliuria, vuol dire che urinano di più. I bambini possono bere di più, richiedono più acqua e di notte fanno pipì, quindi enuresi notturna. Questi sono i segni iniziali del diabete. Poi se non ci si accorge subito si possono avere dei segni più seri, più gravi. Ora, l'esordio del diabete nell'età pediatrica implica un impegno di tutta la famiglia, non solo quindi del genitore ma anche di tutto il contorno, compresa la scuola e compresi per esempio le comunità sportive dove i bambini sono. Avere il diabete in realtà prima dei dieci anni di vita vuol dire che purtroppo c'è un'aspettativa di vita ridotta. Questa è la brutta notizia, però c'è anche una bella notizia che se a 45 anni una persona col diabete arriva senza complicanze, l'aspettativa di vita in realtà è uguale a quella di uno che non ha il diabete. Quindi è molto importante il controllo metabolico in particolare nei primi anni di vita. Telemedicina, la tecnologia sono un grande supporto per i bambini e per le famiglie perché ci permettono di vivere in tranquillità e senza i rischi delle complicanze acute che si possono incontrare durante il percorso. I maestri di scuola sono anche delle sentinelle che possono aiutarci, sono quelli che possono intercettare i segni precoci, possono dare un grande aiuto per intercettare precocemente e poi inviarli ai pediatri che fanno il secondo step per approfondire e verificare se è il caso poi di demandare l'endocrinologia pediatrica del Salesi. Può aiutare l'inserimento perché purtroppo non è facile né per il bambino scoprire di avere questa malattia ma neanche per i familiari e quindi il ruolo dell'insegnante della scuola di far sentire questo bambino come tutti gli altri di integrarlo è molto importante. L'ultima analisi è anche la salute orale che è importante, non va trascurata per evitare poi delle complicazioni in futuro. Inizialmente non è facile per nessuno perché il genitore dice ma proprio mio figlio perché e quindi non è facile e soprattutto non si sa come muoversi inizialmente, poi dopo però fortunatamente il nostro sistema sanitario ha una buona organizzazione quindi la malattia attualmente è gestita egregiamente. Sicuramente si possono potenziare i servizi come lo psicologo, non deve essere visto come un motivo di invalidità ma una malattia che si è presa per tempo e gestita bene può dare un'aspettativa di vita come qualsiasi altra persona e ti può permettere di fare veramente tutto. Io ho un pool di pazienti pediatrici quindi età 0-14 anni e tra questi ci sono anche diversi pazienti con problema di diabete nel corso degli anni poi dopo man mano che queste patologie si presentano poi passano all'adulto però diciamo l'approccio soprattutto col diabete tipo 1 spesso è in carico a noi. La fase iniziale è quella più dura perché l'accettazione di una patologia cronica come il diabete non è facile. Per esempio io ho una famiglia in cui il babbo è già diabetico, lui addirittura è stato lui il primo che si è reso conto che il bambino poteva avere un problema serio. Quindi ripeto l'accettazione a volte è difficile da parte di famiglie che non hanno mai avuto questo problema in nessuno della famiglia. A Pesaro ci saranno altri 51 alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle famiglie in difficoltà e questo è il risultato dell'intesa sottoscritta dal Comune e Erap Marche che è l'ente gestore delle case popolari nella regione. Salgono così a più di 300 gli alloggi popolari a Pesaro per contrastare l'emergenza abitativa. Alla città di Vallefoglia è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile per i fatti accaduti a Montecchio durante la seconda guerra mondiale e in particolare durante lo scoppio della polveriera del 21 gennaio 1944. Un episodio drammatico che ora viene commemorato da una medaglia conferita dal Ministero dell'Interno Luciana Lamorgese consegnata ieri al sindaco Palmi Rucchielli dal prefetto Tommaso Ricciardi. A causa dei recenti eventi sismici è stato annullato l'evento Cento volte grazie che era previsto domani in prefettura e che vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi. Viene dunque riprogrammata a data da destinarsi la cerimonia organizzata dall'Avis che premierà 134 donatori di sangue della provincia che hanno raggiunto quota 100 donazioni. È invece assolutamente confermata la seconda e ultima domenica di Cartoceto DOP il Festival. Dopo un esordio con tanti visitatori è pronta una seconda domenica che parte già dalla mattinata con l'apertura del mercato dei produttori in piazza Garibaldi, itinerari naturalistici da percorrere, frantoi da visitare, mostre, degustazioni guidate dell'olio di Cartoceto e dei vini marchigiani. Al Teatro del Trionfo domenica alle 18.30 ci sarà poi il concerto della polistrumentista Serena Brancale affiancata dal pianista Domenico Sanna. E continuiamo a parlare di eventi nel nostro territorio perché questo weekend si chiude anche la 57esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna, ultimo degli eventi legati al tartufo di questo autunno. La Regione Marche è però pronta a lanciare un nuovo festival itinerante dal titolo Tartufo tutto l'anno nelle Marche per valorizzare ogni variante del gustoso tubero. La nuova rassegna parte questo lunedì da Cavirginia Country House di Borgo Massano. Vediamo. Domenica 13 novembre ad Acqualagna calerà il sipario sull'autunno delle tradizionali fiere e mostre del tartufo nelle Marche. La Regione però non vuole spegnere i riflettori su una delle sue eccellenze alimentari assolute lanciando il festival Tartufo nelle Marche tutto l'anno. Un progetto che anche nei prossimi mesi vuole mantenere alta l'attenzione sulle otto tipologie di tuber nel territorio. Una scommessa che coinvolgerà chef e ristoranti coordinati dall'Accademia del Tartufo nel mondo. Si parte lunedì 14 novembre da Cavirginia Country House di Borgo Massano già dalle 10.30 con la tavola rotonda alle nuove frontiere del turismo enogastronomico marchigiano alle quali seguiranno cerche e cavature di tartufo, sfide ai fornelli e investitura di chef ambassador. Io proprio in questi giorni ho partecipato a due eventi importanti, quello di Acqualagna e quello di Amandola dove appunto si celebra il tartufo come un'eccellenza del nostro territorio. E la novità di questa iniziativa che sta nel riproporlo nei ristoranti durante tutto l'anno. Quindi il tartufo che viene destagionalizzato un po' anche come la tendenza nei confronti del turismo marchigiano che appunto stiamo cercando attraverso tutta una serie di azioni iniziative di non concentrarlo solamente nel periodo estivo ma appunto di fare in modo che ci sia un'offerta turistica che sia presente tutto l'anno. Così come il turismo in generale il tartufo che è un prodotto importante legato appunto al nostro territorio può rappresentare bene anche la promozione di tutto, di tutto il territorio marchigiano. È assurdo far spegnere i riflettori sul tartufo dopo l'ultima settimana, la prossima che sarà ad Acqualagna perché da metà novembre anche il bianco pregiato si manifesta con le grandi note aromatiche con le pepite più preziose, i profumi e gli olfatti molto più marcati e diciamolo anche sicuramente con prezzi inferiori. Ma io vorrei che tutta la marchigianità cogliesse un nuovo aspetto che si può degustare tartufo anche in altre otto tipologie. Sette più una perché naturalmente ci sono i grandi pregiati ma ci sono anche i tartufi più democratici e tutti gli chef marchigiani sapranno elegantemente narrarlo, lamellarlo o grattugiarlo sui piatti per creare un turismo facoltoso internazionale 12 mesi all'anno perché il cagnolino, il cavatore, il tartufo lo vogliono cavare e noi dobbiamo manifestarli tutti e tutto l'anno. E allora buon divertimento in questo fine settimana con i tanti eventi che ci sono nel nostro territorio dedicati proprio all'eccellenza della nostra terra. Questa sera però su Rossini TV attenzione un bellissimo approfondimento a cura di Conf Commercio Marche Nord sui tanti progetti di comunicazione turistica e non solo con Amerigo Varotti che è il direttore appunto di Conf Commercio Marche Nord intervistato dal nostro Antonio Astuti. Questa sera alle 23 potete vedere la replica di Spazio Z, una nuova puntata dedicata alla nuova scuola e Letizia intervisterà i ragazzi della sua età, gli adolescenti, qui scritta in sovrimpressione vedete anche gli altri momenti in cui potrete rivedere la puntata. Domani la nostra rassegna stampa puntuale alle 7.20 in diretta sul canale 80 e anche sulla nostra pagina Facebook alla conduzione ci sarà Antonio Astuti. E sempre domani alle 13.30 torna una nuova puntata di Uipesaro TV, con noi ci sarà Marco Perugini quindi vi aspettiamo sabato, quindi domani alle ore 13.30. Ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi, adesso il meteo per vedere come sarà il tempo i prossimi giorni, buon proseguimento su Rossini TV.